Ma ci puoi spiegare che cosa sta succedendo? Perché sarà inevitabile un'escalation della guerra? Anche se Biden ha detto che questo non rappresenta un atto di guerra contro la Russia. Per la verità, Mosca l'ha interpretato, lo interpreta in modo molto diverso. Beh, la guerra cosiddetta indiretta fra Russia e America diventa sempre più diretta e quindi l'escalation è in corso, non è qualcosa di futuro. Dobbiamo certamente spiegare che questi carri armati, che poi se tutto va bene saranno un centinaio e arriveranno fra diversi mesi, non possono chiaramente cambiare il corso delle vicende militari sul terreno perché sono troppo pochi. Il problema è che l'Ucraina ha praticamente finito le sue riserve di armamenti e di munizioni sovietiche quindi è totalmente dipendente dal nostro aiuto militare. Senza l'aiuto americano e dei paesi nato che vogliono contribuire allo suo sforzo bellico l'Ucraina è finita. Quindi ha bisogno di noi e quindi sostanzialmente a noi spetta decidere le sorti di questa guerra. Una bella responsabilità alla quale cerchiamo di sfuggire. La dichiarazione di Biden è un esempio. Cerchiamo di spiegare che non è cambiato niente ma purtroppo le cose cambiano e non cambiano in meglio. Ma può anche darsi che la Nato e gli Stati Uniti d'America in primis vogliano de-escalare il conflitto cioè prima una escalation per poi avere una de-escalation. È possibile che comunque anche all'Ucraina continuiamo a dare armi in misura sufficiente per potersi difendere ma non per vincere la guerra perché nessuno vuole una sconfitta totale di Putin? Ma io non so se veramente nessuno vuole una sconfitta totale di Putin. Certamente una buona metà della Nato la vuole a cominciare dai polacchi e dagli inglesi. Una buona parte dell'establishment americano pure. Il problema è che questa guerra ormai è diventata una questione di vita o di morte per entrambi. Per l'Ucraina lo era evidente fin dall'inizio ma ormai anche la Russia ha virato la sua comunicazione, la sua propaganda presentando questa guerra non come una guerra in Ucraina per l'Ucraina ma una guerra contro l'America. E su questo naturalmente è più facile anche compattare l'opinione pubblica che infatti non mi sembra che stia in qualche modo retrocedendo nel relativo consenso a Putin. Dico relativo perché stiamo parlando di un regime che evidentemente non lascia esprimere le opinioni in maniera libera. Ecco ma perché tu dici che prima o poi l'invio di armi non basterà e arriverà il momento in cui bisognerà decidere se mandare anche nostre truppe in Ucraina? Beh quello sarebbe la guerra totale, no? Beh intanto diciamo la verità già alcuni paesi, direi soprattutto la Polonia ha inviato migliaia di soldati più o meno informalmente in Ucraina esentandoli anche da un obbligo di legge per il quale un soldato polacco combatte solo per la Polonia in questo caso combattendo in Ucraina cioè combattendo i russi di fatto combatte per la Polonia e poi ci sono migliaia di volontari ma non sono questi che cambiano il corso della guerra il corso della guerra se le cose restano come sono può essere più o meno nella migliore delle ipotesi riportato a una situazione di stallo come ha detto il ministro della difesa americano non è pensabile che nel corso di quest'anno l'Ucraina possa recuperare tutti i territori persi e forse nemmeno una gran parte è molto difficile anche pensare che la Russia possa arrivare non so, non dico Kiev ma molto avanti allora a quel punto magari un esaurimento di entrambe le parti o una difficoltà interna di entrambe le parti potrebbe portare a un cessato il fuoco a qualche compromesso provvisorio in stile coreano per capirci cioè a me sembra non sono un esperto militare mi sembra però abbastanza evidente che una guerra d'attrito che continua per lungo tempo in linea di massima vedrà Putin prevalere il fatto che dentro questa guerra d'attrito nella quale siamo già in una guerra per ora novecentesca l'Occidente si ingaggi via via sempre di più compresa l'Italia ovviamente compresa l'Italia fino a che punto? questo è il tema dove vogliamo spingerci? probabilmente potrebbe arrivare io non me lo auguro credo che nessuno di noi punti a questo un momento in cui forse saremo chiamati anche a prendere questa decisione cioè dobbiamo entrare in guerra anche noi? perché se no tanto Putin per fermare non si ferma io dico quindi dobbiamo saperlo perché ecco sono d'accordo con Caracciolo come diceva prima non ha senso dire come è successo oggi che persino la Germania manda i suoi Levopard che è un fatto storico per la Germania certo l'America manda i suoi cararmati e loro dicono Biden in testa no ma tutto va avanti come prima non c'è un escalation l'escalation c'è noi dobbiamo sapere che il rischio che si arrivi lì prima o poi si può materializzare lo dico solo per trasparenza e perché le opinioni pubbliche siano informate non per dire non lo dobbiamo fare forse ci si potrebbe arrivare e a quel punto noi non possiamo più tirarci indietro noi già adesso non possiamo più tirarci indietro Giorgia Meloni e il suo governo Italo Bocchino l'Italia ha due alleanze fondamentali l'Unione Europea e il Patto Atlantico della Nato tutti e due queste alleanze si schierano senza sé e senza ma a tutela dell'Ucraina che non è a tutela dell'Ucraina dice allora dobbiamo morire per l'Ucraina no è a tutela della democrazia europea ed occidentale contro una autocrazia che la invade quindi noi non è che possiamo stradire due grandi parti fino al punto in cui dovremo difendere uno Stato sovrano dandogli la possibilità appunto di reagire all'aggressione noi abbiamo il dovere di permettere all'Ucraina di reagire all'aggressione abbiamo il dovere perché la tutela della democrazia se passa il principio che l'Italia l'Unione Europea la Nato si disinteressa ma chi se ne frega è il problema degli ucraini se lo vedessero loro è che l'egoismo classico e può portare a dire questo diciamo noi poi abbiamo un costo sulle bollette energetiche un costo quando faccio il pieno di benzina con questo egoismo poi comincia la prima guerra fino al punto e questo sarà come ci ha spiegato Caracciolo a un certo punto la decisione da prendere di dover mandare anche nostre truppe non vedo uno scenario con truppe in partenza ricordo che una volta con un governo di sinistra partirono le truppe anzi partirono gli aerei e bombardarono i caccia e bombardarono ancora prima ancora prima del voto del Parlamento quindi purtroppo la politica internazionale è bellezza se stai dentro delle alleanze stai dentro le alleanze Lucio Caracciolo a proposito di inizio di colloqui di contatti di negoziati di pace è vero che non se ne parla più dove eravamo rimasti che c'erano contatti segreti off the record tra russi e americani adesso di questo non si parla più ricordiamo anche che in tutto questo scenario bellico il presidente Sielensky ha dato l'avvio nelle ultime ore a un grande repulista all'interno della sua amministrazione perché ci sono stati ci sono degli scandali di corruzione terribili che diciamo in una situazione come questa era l'ultima cosa che ci voleva oppure si potrebbe anche ricordare che fa parte di quasi tutte le guerre in America ci sono diverse opinioni e quindi bisognerà vedere quella che prevale perché ancora oggi mi pare che ci siano posizioni molto diverse tanto per dire il Pentagono non voleva mandare i carri armati la Casa Bianca sì che fine hanno fatto i negoziati e hanno fatto la fine che fanno i negoziati quando c'è l'escalation cioè non funzionano perché appunto in questo momento né Zelensky né Putin possono fare un passo indietro non lo possono perché sarebbero immediatamente esautorati nella migliore delle ipotesi e quindi il rischio è che si finisca a continuare in questa guerra di attrito quanto a un coinvolgimento dell'Italia siamo chiari se la guerra diventa una guerra diretta fra Russia e America Russia e Nato non è che noi possiamo mandare dei soldati perché non fanno nemmeno in tempo a partire cioè non è questo il punto il punto è che ci esponiamo evidentemente a un conflitto nel quale non abbiamo nessun tipo di controllo anche perché la deterrenza nucleare l'Italia ma anche la Germania non ce l'ha ce l'ha la Francia e ce l'ha l'Inghilterra e questo è uno dei motivi per cui i tedeschi hanno pensato molto prima di mandare i carri armati sapendo appunto di essere scoperti infine Zelensky Zelensky è alle prese con il fenomeno della corruzione che sappiamo che in Ucraina ha qualche radice un po' antica anche e certo in una situazione di guerra questo non aiuta quindi questo dà anche il segnale che dentro l'Ucraina una competizione politica sta cominciando a maturare questo è ciò in cui crediamo questo è ciò che siamo che ciò che è